Il concetto di efficienza energetica si estende nelle tecnologie di Schneider Electric da ormai da più di dieci anni, spingiamo questo concetto. È un concetto che si è sviluppato non solo per l'automazione ma anche per il mondo della distribuzione elettrica. Schneider ha fatto negli ultimi dieci anni acquisizioni importanti, tutte rivolte a portare quello che oggi è definito IoT, Internet of Things, la tecnologia per far comunicare gli oggetti che oggi fanno parte della nostra vita, dall'edificio, dalla casa, dall'industria, da tutto ciò che è il processo di gestione dell'energia elettrica. È evidentemente un primo ostacolo, ogni volta che io devo implementare della tecnologia, la tecnologia ha un costo sempre più basso perché è sempre un discorso di volumi che si troveranno sul mercato e quindi di possibilità. La sfida per Schneider Electric è di rendere la tecnologia semplice, efficace in modo da poter essere inserita con un impatto minimo. A oggi stiamo facendo enormi investimenti per quanto riguarda l'abbattimento di questo gap economico per fare in modo che nelle nostre soluzioni sia già in modo nativo il concetto di connettività. Questo evento in particolare è organizzato in collaborazione con Trigenia che è una società ESCO, ce ne sono chiaramente molte in Italia. Schneider Electric stessa è una ESCO perché non puoi, avendo il nostro DNA, non essere protagonista di questo processo. Ci sono moltissimi clienti che utilizziamo, che sono con noi partner sul mercato per veicolare questo messaggio, che è il messaggio che poi ci consentirà pian piano di cambiare la mentalità e di implementare delle tecnologie. Ostacoli diciamo che bisogna saper scegliere. Come con Trigenia oggi siamo addirittura protagonisti di un evento con, ci lo diranno i numeri e i risultati dell'evento, però dei numeri importanti. Noi abbiamo per primi quattro anni fa iniziato a trasformare il mercato selezionando dei clienti tipicamente quadristi o piccoli artigiani che avevano voglia assieme a noi e credevano nelle nuove tecnologie di fare un passo evolutivo. Quattro anni fa abbiamo istituito ad esempio un team di clienti che si chiamano EcoExpert che come dice il termine hanno un'attinenza con l'efficientamento energetico, sono stati formati alle tecnologie che non conoscevano e sono stati fatti evolvere. A oggi questo team conta più di duecento tra studi di progettazione che sono i primi che ci aiuteranno a cambiare i progetti del futuro e impiantisti che invece dovranno poi implementare queste tecnologie. Questo è un percorso che è partito ad esempio quattro anni fa, nativo in Italia, quindi un successo italiano e assieme ad altre società che oggi sono definite ESCO stiamo spingendo questa cultura e questa tecnologia. Grazie a tutti.